Allora, Nana, hai finito? Sì, salamalaiko, finito, già pronto. Oggi un bellissimo gallo. Guardate qua che meraviglia. Gallo con patate. È stato allevato a terra. Dice che appunto è molto duro come gallo. Pure questo è buono da mangiare. È pronto il brodo. Eh? È pronto il brodo. Ah, il brodo? Sì. Ho capito. Questo per la mamma? Sì, per la mamma. Ok. Va bene. Ok. Ok, ciao. Ciao, al prossimo. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Grazie.